Musica Ciao a tutti per questa puntata del Ribollito Drink sono venuto in zona Sant'Ambrogio, Firenze al mitico Monkey Bar Musica Eccomi dentro al Monkey con il grande Freddy, il titolare, ciao la bellissima Valentina e anche Jets grande Freddy, allora il Monkey ormai è un punto di riferimento qua in zona Sant'Ambrogio ormai è un posto famoso, dimmi da quanto è che ha aperto 8 anni a giugno a 10 si spacca tutto, bene bene esatto perché Monkey? Monkey perché mi sono sempre piaciute le scimmie perché è un nome che rimane impresso è un nome che permette anche di giocare un po' con il merchandising giochi di parole anche a me è rimasto impresso infatti Monkey Bar ricordatevelo andiamo a parlare adesso della specialità del drink che mi farete vedere ok direi una delle specialità sicuramente il Longotto che è un Long Island che facciamo noi qua un Long Island speciale del Monkey al posto del triple sexy usa la vodka alla pesca è parecchio buono, lo si fa tutti e tre molto bene chi me lo farà allora? io faccio un po' la Valentina Valentina sei pronta allora per il Longotto? piantissima bene allora andiamo a vedere il Longotto con Valentina vai! ice vodka gin rum vodka alla pesca sour zucchero pizzo salto e adesso scelchiamo musica 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 valentina il Longotto spettacolare direi mondiale diciamo dove siete perché bisogna assolutamente venire a provare il Longotto oltre le birre oltre le birre esatto siamo in Sant'Ambrogio via della mattonaia via della mattonaia via della mattonaia accanto a piazza anni annigoni jazz grazie anche a te ringraziamo anche Calonaci che ci dà dei prodotti ci sono fornitori da anni da anni proprio storico e vi da dei prodotti spettacolari venite a trovare questi ragazzi perché veramente qua il monkey è veramente un posto assolutamente da vedere ciao a tutti e seguite le prossime puntate del ribollito io ringrazio freddy ovviamente valentina e jazz alla prossima ragazzi un abbraccione salutiamo ciao a tutti yeah mondiale